termo idraulica susin i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento se compri la caldaia ti regalo il condizionatore bentrovati al meteo scenario decisamente movimentato sabato 24 febbraio tempo ancora spiccatamente instabile vediamo insieme il dettaglio sul veneto condizioni di variabilità al mattino avremo ampie schiarite soleggiate a seguire possibili ancora delle precipitazioni da locali a sparse il limite della neve sarà intorno ai 900 1100 metri temperature stazionarie minime tra 2 e 6 gradi massime tra 9 e 14 all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui al mattino avremo un generale miglioramento ma tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche rovescio sparso anche temporalesco temperature minime sui 4 9 gradi massime intorno agli 11 12 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige si alterneranno anche in questo caso annuvolamenti schiarite e qualche rovescio nevoso oltre i 1000 metri di quota temperature minime tra 1 e 2 gradi massime sui 9 10 all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci termoidraulica susin i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento se compri la caldaia ti regalo il condizionatore